E ormai è entrato nel vivo il progetto Pantacu Educare Dappertutto, progetto selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Obiettivo dichiarato, la lotta alla povertà educativa e alla dispersione scolastica grazie alla promozione di una comunità educante nella regione italiana La Campania, con il maggior numero di minori che abbandonano anzitempo i banchi di scuola, per l'Istat nel 2013 il 22,2%. Il progetto triennale di AIBI, Associazione Amici dei Bambini Educare Dappertutto, rientra tra le sette idee campane finanziate e vede il coinvolgimento di 24 realtà partner tra pubblici e privati, selezionati insieme ad altre 85 in tutta Italia sul bando adolescenza. Tre anni di attività di contrasto alla povertà educativa minorile, da ottobre 2018 a settembre 2021. Una serie di attività vengono messe in campo facendo leva sulla logica delle reti territoriali costruite intorno alla scuola, elemento catalizzatore dell'intero processo relazionale e trasformando la comunità da educata a comunità educante e solidale. Al centro dell'iniziativa la formazione del corpo docente per acquisire competenze innovative utili nella relazione e nella didattica, la sperimentazione da parte di ragazzi di attività extrascolastiche ricreative, artistiche e formative, la costituzione di un'associazione di genitori attiva sul territorio e in grado di fare rete. Tra gli elementi più innovativi un approccio relazionale, sistemico e intersettoriale che vede protagonisti gli alunni di quattro scuole secondarie di primo grado, Salerno, Santa Maria, Capovetere, Castellammare di Stabbia, i loro insegnanti, le loro famiglie e le intere comunità dove vivono.